buonasera buonasera e bentrovati avrei voluto darvi domani una soddisfazione quella di intervenire in aula perché c'era stata annunciata una gradita visita a sorpresa del nostro Premier che non è che abbia particolarmente abbondato nell'interlocuzione e nel coinvolgimento del Parlamento nel suo secondo governo lui la racconta in un modo un po' diverso ma insomma poi i fatti sono questi e quindi come lasciarsi sfuggire la preziosa opportunità di essere ragguagliati direttamente da lui sugli atti che nella sua imperscrutabile e insondabile saggezza stava disponendo circa il nostro futuro poi però purtroppo chissà perché questa opportunità si è manifestata improvvisamente come impossibile è evaporata e siamo rimasti così col rimpianto di non sapere che cosa avesse lui da dirci perché quello che noi avevamo da dire a lui diciamo resta più o meno resta più o meno quello che gli abbiamo detto l'ultima volta e credo anche quello che gli diremo la prossima volta perché non si vede un vero cambiamento di passo quindi visita a sorpresa annunciata per il venerdì giorno in cui non c'è nessun parlamentare poi smentita e si va avanti così decreto annunciato quando era già ieri no io ormai ho perso il senso del tempo sto chiuso nella mia tana a lavorare decreto annunciato in televisione prima di essere chiuso due giorni fa l'ho annunciato oggi siamo giovedì chiaro era martedì o mercoledì non neanche mi ricordo prima che fosse chiuso ieri poi abbiamo fatto grande accordo il piano di intervento è stato diciamo così ha scalato una marcia da poderoso è diventato cospicuo cosa che ci fa piacere perché è sempre importante che ci si addentri nella meravigliosa varietà del vocabolario della lingua italiana anche e soprattutto se lo si fa nella direzione di un maggiore realismo quindi prima era poderoso adesso era cospicuo io suggerisco come progressivo avvicinamento alla realtà al premier i seguenti ulteriori aggettivi per i prossimi interventi ragguardevole significativo appropriato misurato insufficiente fallimentare ecco quando saremo arrivati a fallimentare avremo detto la verità succederà fra sette decreti ma il problema non è se se ne accorgerà lui di quello che sta succedendo il problema è che nel frattempo ve ne siete accorti voi allora ho cercato di mettere la testa sulle bozze del decreto per non arrivare comunque del tutto impreparato all'impatto con il decreto perché dico questo? perché ero tutto contento avendo in una interlocuzione con il ministro con i rapporti col Parlamento capito che questo decreto sarebbe andato alla Camera e che quindi se lo sarebbe beccato Claudio Borghi però siccome Dio c'è e ha voluto castigarmi per questo pensiero malevolo nei riguardi del collega Borghi sembra voci di corridoio dicono che il Presidente della Repubblica di sua spontanea volontà o per pressione dei gruppi parlamentari di maggioranza trovi inaccettabile il modus operandi consistente nel mandare un decreto di 300 articoli a un ramo del Parlamento perché questo significa ovviamente che l'altro ramo del Parlamento non potrà lavorarlo e quindi esattamente come vogliamo difendere la finzione di essere una Repubblica parlamentare vogliamo anche difendere la finzione di essere un sistema bicamerale perché lo sappiamo che siamo in un monocameralismo de facto ve l'ho spiegato nel blog e vi ho spiegato perché perché si legifera per decreto perché i tempi dell'elaborazione dei decreti sono tali per cui solo un ramo del Parlamento riesce a fare una buona elaborazione approfondita e dall'altra parte si mette la fiducia e ciao quindi di fatto non è un bicameralismo è un monocameralismo a camere alternate una volta la monocamera si chiama Parlamento e una volta la monocamera si chiama Senato io ero tutto contento perché dopo essermi cibato con i colleghi della Commissione Bilancio cui io mi ero aggiunto il Cura Italia 127 articoli l'idea di essere sepolto sotto un mammozzone di 300 articoli non mi sorrideva però invece pare che un po' forse 150, forse 200, forse 70 chi lo sa perché chi sa come lo spaccheranno cioè un decreto non è esattamente come una mela o un'anguria non è che pigli un coltello, lo tagli in due dai un pezzo a uno, un pezzo a un altro bisognerà che ci sia un filo logico nella suddivisione del lavoro che eventualmente rischiano di farci fare ma sarà comunque una mole di lavoro interessante pesante questo perché questo decreto il cosiddetto decreto rilancio ora lo chiamano rilancio perché chiamarlo aprile non ha portato benissimo devo dire che quando mi venne detto dal ministro che il decreto si chiamava o dal ministro da Misiani che il decreto si chiamava aprile io chiesi se era aprile nel senso di germinale o nel senso di floreale i mesi della rivoluzione francese che sono a scavalco sui mesi del nostro calendario quindi per dire capiterà nella prima o nella seconda metà di aprile in realtà capiterà nella seconda metà di maggio e quindi già io che sono un pessimista nato ero stato ottimista vedi certe volte uno non si conosce abbastanza questo decreto è un unicum batte un record nella storia dei decreti un record dei quali chi lo emana e chi lo firma si intesterà la triste paternità già il decreto cura Italia era stato il decreto legge più lungo nella storia repubblicana ve lo dico come mi è stata detta da un consigliere di stato persona familiare con la produzione legislativa e aveva 127 articoli questo avendone più del doppio chiaramente nel giro di un mese e un po' il governo ha sorpassato se stesso e ci ha prodotto il decreto più lungo probabilmente della storia del mondo ora ci sarebbe da fare una riflessione sul perché succedono queste cose una riflessione di metodo perché succede che arrivino dei provvedimenti legislativi così enormi presso diciamo alle camere permettetemi di fare una rapida operazione di ok ok cioè a voi perché ci rifilano dei provvedimenti di legge illegibili e ingestibili credo che ci siano due problemi d'accordo il primo problema secondo me è un problema strutturale e deriva dalla centralità che il MEF ha preso nel corso del tempo per una serie di problemi di riforme strutturali interne ed esterne le riforme strutturali interne sono quelle che hanno portato come credo vi ricordiate all'accorpamento dei ministeri economici un tempo i ministeri economici erano quattro cioè finanze che si occupava del prelievo fiscale tesoro che si occupava della per esempio gestione del debito pubblico bilancio che si occupava della programmazione economica del bilancio dello stato infatti si chiamava bilancio e programmazione economica e udite udite una cosa passata di moda ma che potrebbe tornare di moda partecipazioni statali con una riforma Bassanini una delle tante alla fine degli anni 90 questi ministeri collassarono progressivamente non con una sola ci furono diverse riforme collassarono in uno nel famoso MEF naturalmente il discorso era sempre razionalizziamo tagliamo costi della politica efficienza qua e là la verità è che sostanzialmente quello che si ottenne non fu un grosso risparmio io non credo e devo dire spero anche che nessun dipendente pubblico sia stato licenziato perché i ministeri da quattro sono diventati ad uno quello che è cambiato è che dove prima c'erano quattro figure politiche ci se ne è trovata una una che da politico deve gestire una macchina che però è quattro volte più complicata di quella che gestiva ognuno dei suoi quattro predecessori quindi di fatto anche questo è stato un modo per ridurre e rendere inefficiente l'ambito di azione della politica sull'economia poi ci sono tanti buoni motivi ma perché il coordinamento europeo non so perché la Lituania ha solo il ministero dell'economia allora un paese di uguale storia uguale cultura uguale tradizione uguale numero di abitanti uguale complessità della Lituania come l'Italia siamo uguali stessa cosa solo che noi siamo sul Mediterraneo e loro sul Baltico ma anche noi siamo pochi milioni di persone che parlano una lingua incomprensibile cioè io voglio dire no allora anche noi dobbiamo avere un unico ministero vabbè di fatto questo accentramento nell'unico ministero economico unito per volontà di coordinamento europeo e per volontà pseudo volontà di tagli efficientamenti unito a la centralità delle regole europee ha reso il MEF una cittadella uno stato uno stato nello stato è un ministero che è più un ministero degli altri ed è quindi abbastanza normale di fatto tu governi se hai la presidenza del consiglio e il MEF di tutto il resto te ne puoi sinceramente cioè è per carità quello che quello che viene si prende ma non essendo diciamo così uno scenario particolarmente realistico quello non so che noi dichiariamo guerra all'Australia per dire il ministero della difesa è molto importante ma rispetto al MEF cioè all'interlocutore privilegiato del Moloch europeo è chiaro che passa in un secondo piano tornerà in primo piano per le note vicende dell'esercito unico europeo dal quale il signore ci scampi ma purtroppo allora questa centralità fa sì che quindi i provvedimenti importanti in qualche modo debbano collassare sul 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 MEF collassino lì e dal punto di vista parlamentare vadano a finire in commissione bilancio cioè e quindi questo è un primo punto cioè la centralità del MEF rende il MEF l'interlocutore necessario e privilegiato di qualsiasi emanazione legislativa del governo e quindi fondamentalmente si passa da lì e si fa un unico enorme decretone fatto ad uso di quello che era la legge di bilancio dentro cui confluisce tutto potrebbe sembrare più razionale dovendo affrontare una crisi complicata dove una certa rapidità di intervento sarebbe auspicabile in un provvedimento che di fatto è una collezione di decreti perché ce n'è uno sul lavoro poteva farlo il ministro del lavoro ce n'è uno sul turismo poteva farlo il ministro del turismo ce n'è un pezzo sulla sanità poteva farlo il ministro della sanità invece no tutto insieme appassionatamente si fa questo meraviglioso grosso decreto dove sono coinvolti tutti i ministeri tutti insieme tutti come nella legge di bilancio tutti sotto legida del MEF attenzione qualsiasi decreto legge è ovviamente una emanazione di quell'organo collegiale che è il consiglio dei ministri quindi io non vi sto dicendo che si sarebbero potuti escludere dei ministri no vi sto dicendo che però nella gestione dei provvedimenti nella stesura delle norme nella confezione del provvedimento potrebbe essere stato coinvolto di volta a volta il ministro del settore competente che poi sottopone agli altri e collegialmente si approva quell'atto e lo si emana e poi si parte con il percorso parlamentare per avere decreti di 40 50 articoli che già sono troppi no invece si va verso questa strada perché perché alla fine diciamo così è la cittadella MEF che governa tutto quanto questo è un dato strutturale e quindi noi ci dovremmo abituare a vedere ormai per virtù del fatto che tanto l'interlocuzione con l'Europa c'era il MEF che tanto quindi siccome qualsiasi paglia alza in Italia devi prima chiedere permesso l'Europa diventa naturale il MEF il posto in cui si aggregano le funzioni legislative del governo anche perché il MEF ha quell'organo che è la ragioneria generale dello Stato che ha il vero potere che è quello di bollinare l'atto legislativo del governo e il decreto senza quel bollino non si va né avanti né indietro e quindi giusto per capire poi parliamo di quelli che dicono perché non fate cadere il governo fate qualcosa diciamo qualcosa potremmo rubare il bollino nottetempo infiltrarci nel MEF al dottor Mazzotta e apporlo su delle norme che abbiano un senso poi potremmo non so tenere tutti i parlamentari di maggioranza fuori dal Parlamento e approvarcele fra noi sarebbe una cosa molto divertente nel meraviglioso boschetto della vostra fantasia ma il mondo funziona in un altro modo poi volevo farvi capire che c'è un altro motivo per cui purtroppo siamo condannati a gestire da parlamentari e da politici in modo inefficiente questa fase molto dura e molto dolorosa per voi ed è il fatto che la maggioranza è sempre più rissosa e divisa lo è sempre stata lo è stata fin dall'inizio è una maggioranza che non era legata da diciamo un cemento ideale di nessun tipo sapete bene che lì fondamentalmente le aspirazioni che il compito che questa maggioranza aveva era duplice assicurare la sopravvivenza del PD come partito e assicurare la sopravvivenza dei parlamentari 5 Stelle come parlamentari essendo perfettamente chiaro a tutti che nella prossima legislatura essi non ci saranno più compito nobile per carità di Dio per chi ne è l'oggetto io non auguro a nessuno torno a dirlo io l'ho anche detto in aula non è che vi sto chiedendo di suicidarvi di avere un minimo di orgoglio ma questo lo lasciamo perdere compito nobile ma che però si è trovato sorpassato dal compito molto più impegnativo di gestire l'emergenza sanitaria e lì ovviamente il passo sarebbe dovuto cambiare ma non è cambiato e allora immaginatevi il film che facevo prima si fanno le norme sull'agricoltura si danno al ministro Bellanova di Italia Viva che viene delegata lei a predisporre l'agricoltura il ministro Franceschini del PD viene delegato lui a predisporre il decreto sul turismo poi magari un ministro dei 5 Stelle il ministro Patuanelli di cui va sempre il mio cordialissimo saluto viene incaricato di occuparsi lui non so del del sistema delle imprese di quello che gli compete ma allora a quel punto mentre nell'unico calderone del decretone da 300 articoli tutto confluisce quindi tutto viene pesato sulla stessa bilancia e quindi il loro sconclusionato manuale Cencelli riesce a capire se chi doveva avere avuto e quindi l'immenso marchettificio viene in qualche modo ridotto a unum cioè questa riduzione ad unum dell'unico decretone dove marchetta più marchetta meno se invece si fosse andati avanti in parallelo con 5-6 decreti e ognuno avrebbe avuto paura di rimanere fregato ve la dico in un altro modo adesso abbiamo un unico decreto sul quale dobbiamo mettere la testa tutti avessimo avuto sette decreti qualcuno avrebbe avuto paura di distrarsi e di rimanere fregato di avere meno la possibilità di fare la cosa per il suo elettorato di fare qualcosa per il paese beh quello diciamo così se succede probabilmente non dispiace a nessuno ma che sia la priorità di tutti tenderei ad escluderlo e quindi noi adesso ci accingiamo ad affrontare il Moloch quando arriverà non si sa il consiglio dei ministri per il decreto che secondo il presidente Conte era concluso ieri dovrebbe esserci domani a mezzogiorno quindi se tutto va bene venerdì sera il decreto esce in gazzetta e quindi poi arriva in in Parlamento nel fine settimana e da lunedì si può cominciare a a lavorarci altro dettaglio che forse non sapete se vi interessa dal punto di vista diciamo dello sviluppo di questo decreto tenete presente che è un decreto che dovrebbe decidere come spendere 55 miliardi poi ragioniamo su che cosa queste cifre ci raccontano e diciamo così il ministro per i rapporti col Parlamento ha fatto sapere che i parlamentari per giocare rimarranno 800 milioni di euro per i loro emendamenti cosiddetti costosi e quindi se vuoi fare non so chi si vuole impegnare per una particolare che significa poi che alla Lega ne rimarrebbero non lo so 50 60 70 milioni da fra virgolette spendere ora io diciamo così ho tutta una serie di mie reticenze di mie sensibilità anche rispetto a questo modo mercantile di concepire diciamo così l'attività e anche il rapporto fra governo e Parlamento nel senso che non può essere chietta da un po' di soldi così non mi rompi i coglioni cioè perché questo suona così no non escluderei a priori che un emendamento parlamentare faccia risparmiare magari soldi allo Stato anche se sapete perfettamente che da economista in questo momento non raccomanderei nulla di simile ma il vero problema è un problema di rapporti fra istituzioni in questo momento non mi puoi dire ti è c'è questi spicci gioca non può funzionare così non può funzionare così anche perché le cose che sono state fatte finora sono gravemente insufficienti poi ne parliamo peraltro se come sembra mi hanno riferito fonti autorevoli questa istanza del presidente Mattarella il decreto verrà diciamo così spacchettato affinché nessuno ramo del Parlamento sia scontento leggi affinché i gruppi di maggioranza di Camere e Senato abbiano tutti e due possibilità di partecipare al marchettificio d'accordo ok non è chiaro se poi gli 800 miliardi verranno distribuiti pro quota in quel caso probabilmente non so 500 alla Camera e perdonatemi milioni gli 800 milioni verranno distribuiti pro quota quindi 500 tipo milioni alla Camera 500 e qualcosa e 300 o un po' di meno al Senato per fare così i fatti nostri i fatti nostri cioè fondamentalmente i fatti loro perché a noi non farebbero toccare palla come al solito questo è il percorso allora questo decreto nasce così se viene emanato domani che è sapete che non mi ricordo perché ho perso proprio il senso del tempo 15 quello che è c'è tempo fino a metà luglio sostanzialmente per approvare la legge di conversione e per contestualmente emendare il decreto questa cosa dello spacchettamento di un decreto per fare una singola lettura in due rami del Parlamento in parallelo non credo che sia mai successa mi è stata così riferita io ho delle perplessità però boh anche perché sinceramente da senatore posso dirvi che tutta questa fretta di studiare norme assurde e farle tre di notte dietro agli inviti al ritiro dei presidenti di commissione di maggioranza che chiedono ai membri della loro maggioranza di ritirare gli emendamenti che loro hanno fatto contro se stessi cioè questo film l'ho già visto una volta cioè se devo rivedermi un film mi vedo non lo so forse l'arancia meccanica non lo so giusto ma non questa roba qui anche perché naturalmente il fatto che poi un decreto vada sia lavorato prevalentemente in un ramo del Parlamento non vuol dire che in questo momento io sto seguendo anche il decreto liquidità il coordinamento per gli emendamenti lo fanno gli onorevoli Garavaglia e Bitonci soprattutto perché è in commissione finanze quindi per la Lega il provvedimento è in ottime mani noi siamo quotidianamente assiduamente in contatto via whatsapp o ci telefoniamo quindi sappiamo quello che succede vabbè insomma giusto per farvi un po' un po' capire come funziona secondo argomento di cui volevo parlarvi era il come stanno funzionando le misure già prese voi vi ricorderete che alle ore 28 del 17 marzo 2020 cioè alle 4 del mattino del 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 18 il il governo emanò il decreto cura Italia che all'articolo 49 disponeva gli interventi del fondo centrale di garanzia per anche lì noi intervenimmo per quei famosi prestiti del sistema finanziario e disponeva quindi le garanzie statali su quei prestiti anche lì noi intervenimmo con emendamenti eccetera eccetera totalmente inutili perché poi ci viene detto quella parte veniva stralciata messa nel decreto liquidità ed era la famosa poderosa potenza di fuoco all'epoca era poderosa adesso è cospicua da 400 miliardi ora io sto parlando con voi che siete persone curiose della politica e che nel seguire questa diretta fate un gesto attivo di partecipazione e di interessamento per appunto per la per le dinamiche della politica e in generale di interessamento per le sorti del vostro paese quindi suppongo che abbiate una minima contezza di che cosa fossero quei 400 miliardi di cui si parlava di poderosa potenza di fuoco quei 400 miliardi erano il massimo che lo Stato si sentiva di poter garantire di che cosa però di prestiti che il sistema bancario avrebbe fatto a imprese e alle imprese sostanzialmente perché poi per le famiglie erano disposti altri interventi ora cioè non erano soldi dati dallo Stato alle imprese erano garanzie che lo Stato prometteva di dare alle banche se esse avessero prestato soldi alle imprese inoltre noi avevamo chiesto che se si volevano fare indebutare le imprese perlomeno non gli si facesse perdere tempo e ci fossero degli automatismi le istruttorie per la concessione del credito venissero semplificate naturalmente le cose non sono così facili perché un funzionario di banca che concede il credito a un imprenditore poi magari salta fuori che quell'imprenditore perché può succedere magari ha avuto rapporti con la criminalità organizzata a quel punto il funzionario di banca che gli ha erogato del credito o magari commette una bancarotta fraudolenta un reato di qualche tipo di tipo finanziario a quel punto il funzionario che gli ha concesso il credito ancorché garantito dallo Stato passa comunque un guaio quindi c'era anche il tema di tutelare i funzionari bancari da due cose dai guai che potevano passare erogando il credito e anche dai guai che potevano passare non erogandolo perché era fondamentalmente stato detto alle persone andate in banca e tutto andrà bene quando sono andate in banca e si sono sentite dire mi servono alcuni documenti qualcuno avrebbe anche potuto per dirle in buon italiano sclerare adirarsi non è successo se non in un paio di casi sporadici a ulteriore testimonianza del fatto che gli italiani sono persone disciplinate e di buon senso che meriterebbero di avere la fiducia dei loro governanti e meriterebbero di governare a casa loro soprattutto questa era la poderosa potenza di fuoco allora vabbè due mesi dopo due mesi dopo ieri mercoledì mattina uno di voi che vedo partecipare a questa diretta vedo fra il pubblico mi chiede se vado in commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario a sentire l'audizione io sinceramente tutta sta voglia non ce l'avevo perché mi aspettavo diciamo così la solita litania avevamo sentito già altri quattro organismi facenti parti della task force sulla liquidità e già avevo capito che diciamo non c'era non c'erano grandi speranze nell'immediato per gli imprenditori però confortato dalla richiesta del mio amico e dal fatto che mi sveglio presto ho fatto il mio dovere di bravo soldatino sono andato in commissione a sentire la rappresentante del ministero per lo sviluppo economico la dottoressa Aria che ci raccontava appunto in che modo il fondo centrale di garanzia che rientra nella competenza del mese si stava comportando allora lì il dato interessante è stato che dei 400 miliardi ci è stato detto che ad oggi ne sono stati erogati 7 questo dato quindi diciamo la buona notizia è che ne rimangono 393 la cattiva notizia è che se vanno avanti a 3 miliardi e mezzo al mese ci vorranno un po' di anni di decenni per arrivare a derogare tutti i 400 e naturalmente nel frattempo noi saremo tutti morti perché sarà morto il paese allora diciamo questo dato peraltro faceva scopa come dicono a Roma con l'osservazione di Bernardo Mattarella che è il presidente o amministratore delegato non mi ricordo di Medio Credito Centrale cioè di un altro organismo incaricato di effettuare l'istruttore sulle garanzie che diceva che sui 25 mila euro a lui risultava qua ormai si parla di qualche giorno fa che fossero state fatte 2022 istruttorie mi pare che la dottoressa Ria abbia dato dei dati che nel frattempo sono cresciuti dell'ordine delle decine di migliaia forse 20 mila ma alla fine l'erogato complessivo sono 7 miliardi considerate che se noi stimiamo di avere un buco di pil del 10% sono così mal contati 170-180 miliardi che se li dividiamo per i mesi insomma con quello che è stato erogato non si tappane di gran lunga la perdita secca che interi comparti economici hanno avuto e a valle di questa perdita di fatturato ci sarà ovviamente una perdita di gettito insomma la situazione è veramente grave ma la cosa interessante è stata chiedere ma scusate voi avete promesso di coprire 400 miliardi di garanzie non significa ovviamente che lo Stato ci mette 400 miliardi perché lo Stato se presta una garanzia se si offre di essere garante paga solo se il prestito non viene restituito in altre parole se le banche erogano 400 miliardi e le imprese vanno bene riescono a restituirli lo Stato sborsa zero se lo Stato eroga 400 miliardi e tutte le imprese falliscono lo Stato sborsa 400 miliardi d'accordo quindi c'è un po' allora la mia domanda è stata qual è la probabilità che voi pensiate di sia di fallimento non è un dato banale perché da quella dipende quanto lo Stato effettivamente spanderà tanto più bassa è la probabilità di fallimento tanto meno lo Stato effettivamente spenderà la risposta è stata che prima delle dell'avvento del covid loro stimavano nei loro prestiti di fondo centrale di garanzia che era già operativo ovviamente per garantire il credito le piccole e medie imprese o per tutta una serie di compiti istituzionali loro si regolavano su una probabilità di default del 7% perché comunque si dà per scontato che un prestito possa andare male perché ci sono crisi economiche perché ci possono essere adesso questa probabilità è diventata del 30% il che significa che se nel 30% dei casi ti aspetti che un erogato di 400 miliardi possa non tornarti indietro ti aspetti di doverci mettere 120 miliardi quanti miliardi sono stati messi finora a copertura questa cosa ve l'ha già raccontata Claudio Borghi ma ve la riracconto io abbiamo visto che sono 3,25 miliardi finora a copertura le garanzie non devono essere escusse adesso ma devono essere escusse se i soldi sono dati poi fra due anni non sono restituiti fra due anni chi ci sarà? ci saremo noi peraltro qual è qui il 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 tema è che io ho la sensazione che ci siano due aspetti il primo è che tutta una serie di appesantimenti burocratici derivino da una precisa volontà di diciamo non erogare perché così almeno poi lo Stato non si deve trovare costretto a mettere a mettere soldi per quando le garanzie vengono escusse a parte e questo è questo è un primo aspetto poi c'è anche il triste destino dello Stato che si troverà nella condizione di essere il creditore che diciamo così va a far fallire le aziende cioè bisognerà un attimo capire come gestirla questa cosa e poi a monte di tutto questo c'è l'osservazione principe cioè far indebitare gli stati perché questi facciano indebitare le imprese per pagare le tasse non porta da nessuna parte concludo con un'osservazione che credo di dovervi fare è un'osservazione ipotetica è quella che gli economisti chiamerebbero uno scenario tutto questo finirà d'accordo perché finirà finirà il virus poi magari ne verrà un altro nessuno si aspettava che venisse questo e nessuno si aspetta che ne venga un altro però verrà ma potrebbe tranquillamente cadere un meteorite o potrebbe esplodere un grande vulcano o ci potrebbe essere un terremoto fra l'altro qualche sera fa a Roma c'è stato non importa la vita incerta noi ci lasceremo dietro questa roba e andremo avanti con una ragionevole certezza il centro-destra andrà al governo con una maggioranza piuttosto forte perché dopo questa performance devastante del centro-sinistra diciamo così di tutti i suoi vari santi in paradiso mi sembra chiaro che gli italiani se almeno quelli che capiscono quello che sto per dire che è una cosa apparentemente molto difficile da capire ma io continuerò a spiegarla gli italiani voteranno a destra allora arriva arriva Dio Imperatore Salvini come da apposito gruppo facebook che conoscerete e si insedia sul trono e cominciamo a fare le cose che ci avete chiesto di fare cioè fermare l'immigrazione clandestina fare la flat tax avere un atteggiamento di interlocuzione ferma con l'Europa eccetera 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 nel frattempo c'è un'opposizione che ha collassato al 17% il momento in cui noi stiamo per varare essendo in maggioranza la riforma del sistema fiscale per esempio o stiamo per varare la legge interpretativa sulla proprietà dell'oro detenuto in custodia presso la Banca d'Italia o stiamo per fare un qualsiasi provvedimento che a voi piace la minoranza al 17% fa cadere il governo voi sareste contenti essendo la maggioranza al 60% che la minoranza al 17% comandi sareste contenti di vedere un governo che lavora e fa quello che a voi piace essere sopraffatto da una minoranza che non vuole che vengano fatte quelle cose cercate di mettervi un attimo in questo scenario e la risposta è che stai dicendo certo che non funziona così quando noi avremo la maggioranza avremo la maggioranza comanderemo noi ecco appunto adesso abbiamo la minoranza non comandiamo noi quindi il fate qualcosa fateli cadere se volete se volete sembrare non molto brillanti ma non capisco perché vogliate insultare la vostra intelligenza potete anche continuare a dirlo noi possiamo anche fare delle belle cose per prendervi amabilmente in giro fare gli striscioni fare i matti in aula buttarci per terra oppure bisogna capire che deve passare questa nottata e si deve arrivare al voto perché si consolidi una maggioranza parlamentare che esprima un governo che abbia un senso che sia più coeso ideologicamente che abbia un capo e una coda ecco questo deve essere esattamente come voi se foste maggioranza non vorreste ma non potreste neanche essere scalzati dalla minoranza adesso ve lo dico sarete anche maggioranza nel paese ma non lo siete in Parlamento e quindi non potete scalzare questa maggioranza questa maggioranza può crollare per delle sue incoerenze interne può crollare per esempio mercoledì alle 9.30 se Italia Viva decide di votare con noi la mozione di sfiducia a buona fede che noi abbiamo fatto calendarizzare questo è un atto che può fare l'opposizione ma anche ieri forse voi e qui siete scusati non seguite bene non seguite tutte le notizie ma ieri il fatto che il fondo di garanzia prevede un default una probabilità di default del 30% ha fatto notizia e quella notizia perché è finita sui giornali perché un parlamentare di opposizione segnatamente io ha chiesto ma scusate ma voi che probabilità di default stimate perché loro mica ce l'avevano detto ed è una probabilità di default così alta infatti derivava il fatto che il provvedimento del decreto liquidità è drammaticamente scoperto in termini finanziari fare opposizione significa fare questo se sei in minoranza d'accordo quindi quelli che vengono a dire se non fate cadere questo governo la prossima volta non vi voto cioè allora normalmente i non vi voto i non vi voto sono tutte persone che non hanno votato Lega hanno votato forse 5 stelle o frange diciamo dell'estrema destra quasi mai siccome Twitter nasconde ma non ruba andando indietro tu non vedi una storia particolarmente leghista ma quello che diceva se non fate cadere questo governo la prossima volta non vi voto era fantastico perché perché aveva fatto lo stesso post sotto su Twitter sotto non so una ventina di altri post era un bot e vi lascio con questa domanda secondo voi chi può pagare un utente finto di Twitter per andare sotto i post dei parlamentari della Lega a dire se non fate cadere questo governo la prossima volta io non vi voto la Lega o qualche simpatico organismo di lotta alle fake news pagato o con i vostri soldi a Roma o con i vostri soldi a Bruxelles quale vi sembra di queste due ipotesi la più probabile quindi al netto del fatto che c'è qualche pirla che pensa sul serio che in democrazia comandi la minoranza vabbè insomma auguri voglio anche farvi notare che un certo modo di impostare il dibattito e di inquinare le fonti della democrazia non a caso deriva da chi dall'esercizio della democrazia avrebbe tutto da perdere e in questo momento chi ha da perdere al fatto che la democrazia si esprima attraverso il voto certo non noi il progetto unionista con la sua protervia e il PD che è il suo mandatario locale tutto lì quindi attenzione a diciamo quello che chiedete non fatevi sedurre da diciamo così un certo modo di impostare il dibattito che viene messo in pratica scientemente sui social media per per distrarvi per distogliervi e per demoralizzarvi e per demoralizzarvi la situazione è veramente tragica non verò mai nascosto fin dall'inizio era si profilava chiaramente come l'episodio più grave della storia economica dell'Italia esclusa la seconda guerra mondiale però noi non possiamo non restare nell'alveo della democrazia e quindi attenzione perché torno a dirlo ve lo dico spesso ve lo ridico questa sera siamo in questo momento governati da forze che possono affidare solo a una svolta autoritaria la loro speranza di restare al potere non dobbiamo dare loro alcun pretesto per applicare misure che conducano verso questo tipo di esito perché se lo facesse Orban l'Europa si straccerebbe le vesti ma se lo facesse Conte no quindi attenzione dopodiché per concludere voglio dirvi che però siccome sono stanco di stare tappato in casa anche se ci sono stato meno di voi perché per lavoro potevo uscire come anche altri di voi sabato ho deciso di aderire a una manifestazione che è si svolgerà a Bologna che è il seguito di quella manifestazione civile composta che si era svolta a Piazza Maggiore qualche settimana fa di commercianti e di altre categorie danneggiate che chiedevano che il paese ripartisse quindi io andrò a Bologna per essere con loro ringraziandoli di avermi invitato e ringraziandoli di aver avuto il coraggio di manifestare e di averlo fatto in modo civile senza dare ai nemici della democrazia che hanno nomi e cognomi sufficientemente noti perché io non debba ripeterveli pretesti per portare a termine i loro piani in modo incompatibile con il nostro ordinamento io vi ringrazio molto per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti